137 falsi braccianti agricoli sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta e dai Carabinieri di Riesi per i reati di truffa gravata ai danni dello Stato e falso in genere. La truffa scoperta dai militari su delega della Procura si aggira attorno a 900 mila euro ai danni dell'Inps. In pratica i falsi braccianti agricoli di una fittizia impresa agricola chiamata Carosello 2000 avrebbero intascato in tre anni sussidi di disoccupazione agricola semplice a segni per il nucleo familiare, per malattia e per maternità. A gestire l'impresa agricola che secondo gli inquirenti è stata costituita al solo fine di realizzare la truffa due persone, uno di nazionalità rumena e l'altro di nazionalità italiana, a suo tempo arrestati, a cui adesso è stato disposto anche il sequestro di diversi conti correnti, di un complesso aziendale di tre appezzamenti di terreno e tre autovetture per un importo pari a quello truffato. Inoltre è stata disposta la segnalazione all'Inps per il recupero delle somme erogate. Inoltre il rappresentante della ditta MMF di 42 anni, destinatario di misura cautelare personale, è stato denunciato per estorsione in quanto, al fine di ottenere illecitamente somme di denaro derivanti dalle indennità di disoccupazione percepite, ha rivolto ad un falso bracciante minacce di morte e di attentare alla serenità della sua famiglia.